Terza gara della semifinale playoff, L'Enel Basket torna in campo questa sera contro il Borcellona. Si gioca sul parquet avversario per i ragazzi di coach Bucchi, il primo match ball della serie in palio, un posto in finale. Occasione quindi da non perdere, Bucchi ha a sua disposizione, l'intero team può tranquillamente contare sui suoi ragazzi. Quintetto base, Formenti, Boromniak, Gibson, Callan e Renfro. Non mancherà di farsi vedere in campo anche Andrea Zerini, uomo simbolo della squadra che in queste ultime gare non ha perso un pallone. L'Enel quindi questa sera dovrà chiudere i conti con i siciliani. Il vantaggio accumulato da Biancazzurri, ha detto coach Bucchi, non deve però dare troppa sicurezza. La concentrazione deve essere massima, soprattutto perché si gioca fuori casa, tra le mura del Palalberti, un ambiente caldo. Non mancheranno però i supporters dell'Enel Basket che hanno dimostrato di essere il sesto uomo in campo. Dopodiché se l'Enel riuscirà a superare anche questo ostacolo, la meta della promozione potrebbe farsi più vicina.